Ciao a tutti, ben trovati ben trovati, ciao a tutti, ciao a tutte ragazze ben trovati, ancora una volta siamo qui a parlare di libri e oggi parliamo di un libro che fa parte di una saga parlo di una saga perché la definisco una saga perché non so ancora di quanti libri si è composta l'autore l'autore Enrico Jensi, infatti ha pubblicato, ha intenzione di pubblicare comunque in fase di pubblicazione un quarto volume e io ho letto il terzo ha intenzione di pubblicare un altro volume anche se qualche, credo, sì qualche anno fa la casa editrice, la Sam & Schuster aveva deciso di non pubblicare più i libri di Richienzi non perché lui fosse antipatico o puzzasse o cose di questo genere ma perché non era più interessata alla pubblicazione in sé Richienzi dal suo canto suo aveva protestato dicendo che comunque per terminare la storia comunque la saga in sé aveva bisogno di almeno altri altri due o tre libri personalmente devo dire che dopo aver letto questo libro credo che ce ne saranno almeno altri tre c'è un motivo per cui sto dicendo questo però prima di proseguire devo dire un paio di cosucce la prima è se non avete letto The Monstrumologist non ascoltate questo video la seconda è se non avete letto il secondo volume della serie cioè The Curse of the Windigo evitate di ascoltare questo video perché potrebbero esserci degli spoiler involontari perché magari qualcosa che succede nel primo libro a voi sfugge o comunque trova soluzione nel terzo libro quindi non conviene a voi ascoltare la la mia opinione per prominare poi la vostra non sono mai troppo precisa nei particolari resto sempre abbastanza vaga però se magari vi trovate davanti a un personaggio particolare chiamiamolo Ciccio Francesco che nel primo libro all'ultimo capitolo non si capisce se resti vivo o morto magari io ve lo vengo a citare qui nel terzo libro e voi capite automaticamente che è sopravvissuto e vi siete spoilerati il secondo volume è un esempio assurdo ma preferisco che non ascoltiate la recensione piuttosto che rovinarvi la storia il libro è ovviamente in inglese è di I Love Blood un bel mattoncino è di circa 550 pagine voglio farvi notare come sempre la scrittura che è molto piccola ma davvero molto piccola vedete? molto piccola il carattere è molto piccolo non so se mai arriverà in Italia guardate che belle illustrazioni che ci sono fanno un certo effetto questa edizione è migliore di quella precedente perché non so se vi ricordate il secondo volume aveva un problema con le pagine venivano staccate via invece queste sono attaccate alla perfezione nonostante questa edizione nonostante sia la stessa dei due precedenti è leggermente più piccola infatti gli altri arrivano tipo qui un centimetro più alti questa saga vede il protagonista William James Henry che è un bambino che intorno agli 11 anni viene preso sotto la pretettiva del dottor Warthrop Pelinor perché? perché William Henry ha preso dei genitori in un incendio e siccome il papà di William Henry era collaboratore di questo dottor Warthrop e questo bambino non ha nessun altro al mondo il dottor Warthrop decide di accoglierlo in casa sua voi dite lo ha adottato? io vi dico no non l'ha adottato lo prende come suo apprendista il problema è che il dottor Warthrop Pelinor non è un medico qualunque non è un medico era semplicemente un mostrumologo e questa è la terza avventura che vivono insieme in questo episodio in modo particolare ricompare un personaggio che ho amato nel primo nel primo volume che è il dottor che è il dottor che è John Kearns detto anche Jack detto anche Corey questo individuo non si capisce esattamente quale nome porti all'anagrafe perché ogni volta dà un nome diverso di se stesso e diciamo che nel primo volume mi ha fatto parecchio ridere con il suo modo di fare con le sue battute compare all'inizio del libro anche se in maniera indiretta infatti per far sì che il dottor Warthrop Pelinor che vive in America riceva un suo pacco e lo riceva in tempo molto molto breve decide di inviarlo al dottor Warthrop Pelinor tramite un certo sogno Mr. Kendall Mr. Kendall però è corso letteralmente a cercare Warthrop Pelinor e a consegnargli questo pacco appunto perché è convinto che Kearns lo abbia avvelenato cioè Kearns fa credere lascia credere a quest'uomo di averlo avvelenato e che l'unico che può dargli l'antidoto è Warthrop Pelinor quindi prima consegni il pacco a Pelinor prima riceverai l'antidoto al veleno che ti ho iniettato il punto è che si scopre a un certo punto del libro che non esiste nessun nessun veleno per una per un non esiste nessun veleno che si chiami tipota che pare che in greco significhi letteralmente niente nessuno e quindi già qui John Kearns ricompare facendo ancora una volta ridere e sorridere il lettore sono diverse le avventure insomma le azioni gli eventi che si susseguono in questo libro notiamo come Will Henry sia cresciuto e non cresciuto cioè sia cresciuto moralmente e cresciuto molto e in certo senso ragiona come potrebbe ragionare quasi un adulto o un giovane mostromologo mentre fisicamente tenda a non crescere affatto perché pur avendo 13 anni ne dimostra 10 forse è sottonutrito non si sa questo però porta a capire perché chi sta leggendo questi brani che poi è Enric Yancy stesso si è cercando di capire se Will Henry sia veramente esistito come Will Henry e se veramente sia morto a 131 anni vi ricordo vi ricordo nel caso non lo sapeste che effettivamente i libri prendono in via da dei diari che vengono ritrovati in un ospizio da un inserviente dal direttore che decide di farli leggere a un suo amico Ricky Enzi per cercare di capire quale sia la vera storia di questo uomo morto in questo ospizio che all'ardire di di affermare che quando è arrivato lì insomma aveva più o meno 131 anni quindi questo Ricky Enzi dice di essere lì e trovarsi a leggere questi diari per cercare di capire qualcosa di quest'uomo e cercare di cogliere quale ha delle citazioni qualche nome e di trovare insomma qualche riscontro nella realtà per poter vedere se quello che dice questo Will Henry è vero e quindi si cerca di capire se è vero o no e come leggendo i suoi diari cosa viene recapitato oltre a Pennilor nel primo libro della serie si capisce chi è John Kearns io l'ho capito chi era John Kearns in realtà però qui non lo viene a confermare qui semplicemente si viene a sapere che John Kearns siamo all'inizio non vi sto svelando assolutamente nulla John Kearns invia a Pennilor un pacco in questa scatola in questo pacco c'è quella che a una prima occhiata potrebbe sembrare un oggetto di uso comune il problema è che questo oggetto di uso comune ha un occhio più attento più vicino si vede che è composto interamente da parti anatomiche umane legate insieme quindi questo dà il via all'ennesima storia ci si sposta anche questa volta come è successo anche nel come è successo anche nel secondo questo rivela una certa verosimiglianza perché non si cerca di far pensare che le avventure le avventure insomma i casi capitano nelle mani di Warstrop Pelinor nel suo paese stesso o nelle zone circostanti anzi sia nel secondo nel secondo libro The Course of the Wind Eagle sia in questo sono i casi dei quali loro sentono parlare che li spinge a spostarsi li spinge sto ovviamente parlando di Pelinor e del piccolo Will Henry ora ci sono ovviamente dei personaggi i quali si finisce per affezionarsi io personalmente ho finito per affezionarmi in questo libro a un personaggio che ovviamente è morto tipico della mia fortuna che è veramente comico si rende anche la verosimiglianza della storia in un certo senso quando si dice che all'inizio che Richienzi dice nel prologo che lui ha pubblicato il primo e secondo volume ed è stato tacciato di essere un impostore che in realtà questi diari non sono veri e che lui ha cercato semplicemente di ricavarne dei soldi facendoli spassare per i diari di una persona realmente esistita quando Mr. Kendall arriva da Warstrop Pelinor il modo di agire di Warstrop Pelinor nel modo di assecondarlo mi ha ricordato un po' una scena comica tra l'altro dal film credo che fosse Day at the Races con i fratelli Marx proprio nelle vesti di Grouch che da veterinaria cercava di fare una visita vera e propria a livello medico nonostante non fosse proprio il suo settore vabbè è stato piuttosto divertente sono piuttosto comiche le battute di un personaggio del quale non starò a dire il nome e sono citati anche gli italiani in questo libro ovviamente quando dice gli italiani beh loro sono italiani l'Inghilterra era la scelta più logica beh hanno sempre un grande amore per noi compaiono due personaggi realmente esistiti sempre per rendere questa fantastica verosimiglianza e sono uno è uno scrittore non vi dico il nome ovviamente e quando compare voi dite per un determinato motivo l'altro è un poeta se non erro che hanno sempre questo modo di fare un po' particolare questi libri sono per lo più incentrati sì su ricerche scientifiche a livello di mostri eccetera eccetera ma sono anche secondo me pregni in modo particolare di filosofia perché più delle volte non danno risposte scientifiche quanto risposte che potrei definire psicologiche sì fisiologiche filosofiche cioè un modo come un altro per fare una domanda precisa e dare una risposta vaga almeno per quanto mi riguarda per quel poco che ne ho potuto capire della materia filosofica in sé il libro è sicuramente molto bello al 10 settembre dovrebbe uscire l'ultimo volume l'ultimo in ordine di uscita non l'ultimo necessariamente in senso di ultimo e non nient'altro dopo che dovrebbe apportare il titolo di The Final Descent io ovviamente pronuncio male l'inglese poi a caso male ve lo scrivo qui io sono di parte quando si parla di Ricky Enzi io sono di parte quando si parla di The Isle of Blood o di altri volumi della serie perché trovo che Ricky Enzi scriva in maniera spettacolare e che riesca insomma in qualche modo a farvi affezionare molto al personaggio perché noi conosciamo il rapporto tra il mostromologo che è un mostromologo anche se perde in italiano e Will and Henry attraverso le loro avventure e ci sono delle incomprensioni delle sofferenze è un rapporto di odio e amore l'odioso amato rapporto tra i due non sempre è facile a volte vi accorgerete di amare l'uno e di odiare l'altro altre volte succederà il contrario altre volte invece semplicemente vi cadrà diciamo la lacrimuccia per qualcosa che si dicono e non si dicono perché è sempre così tra i due c'è il dire e non dire ci sarà anche un qualcosa di particolarmente stupefacente che succede quasi verso la fine infatti io sono rimasta esterefatta perché con i pensieri che ha Will Henry non ci si rende subito conto di quello che sta per fare lui pensa qualcosa ma quello che poi fa voi non lo usate neanche immaginare non ho idea di quando usciranno in Italia questi libri io sono contenta di averli letti in lingua questo a prezzo intero a prezzo pieno costava 7 sterline e io se non ricordo male l'ho pagato 6,49 euro perché era scontato su Amazon poi ci sono solo tre vere cause di morte Will Henry la prima è incidente malattie fame guerre o quello che è accaduto ai tuoi genitori ricordiamo che i genitori di Will Henry sono morti in un incendio la seconda la seconda causa di morte è la vecchiaia e la terza siamo noi stessi il nostro lento suicidio questo mi è piaciuto anche molto sa un po' di boh filosofia non dovresti fare amicizia con un mostromologo e posso anche dirti perché sì perché perché non restano in giro per molto tempo muoiono presto muoiono come tacchini nel giorno di ringraziamento c'è qualcuno che fa veramente ridere ho finito con quelle che potevano essere le citazioni e ho finito anche con questo libro mi auguro che alcuni voi riescono a leggerlo in lingua inglese perché secondo me nella traduzione italiana andrebbe persa gran parte del gioco filosofico chiamiamo così che si fa con le parole non perché l'italiano non redda bene ma semplicemente perché questo tipo di atmosfere secondo me è è intrinseco alla lingua stessa cioè la lingua stessa che in sé per sé riesce già a trasmettere parte dell'atmosfera e quindi diciamo che Ricchienzi sia servito della lingua adatta per fare questo tipo di racconto per costruire questo tipo di storia e mi auguro insomma di riuscire a mettere le mie grinfia più presto sul quarto volume che dovrebbe uscire il 10 settembre niente come solito spero di non avervi annoiato spero che insomma possiate esservi fatto un'idea giusta rispetto a questo libro io l'ho amato moltissimo e come al solito vi auguro buone letture alla prossima ciao